ciao sono mimmo il tuo video e te chi sei sono cristian e vieni da copparo provincia di ferrara oh beh allora poi non è poi tanto lontano e ho deciso di alzarmi da un aereo ma sei matto tutto fatto con photoshop scherzi andiamo giù facciamo un giro in aereo e poi andiamo giù tutto finta anche però che tu sono finta e posate tutto non è farcia l'abbiamo capito l'abbiamo ci siamo ormai ormai ci siamo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.